Negli episodi precedenti di Resident Evil Revelations... Parli chiaro con noi, Brian. E non trascuri niente. Funziona tutto quanto alla perfezione. Goditi il resto dei festeggiamenti sulla Quindido, Norman. Raymond ha capito che Morgan non era quello che sembrava. E abbiamo predisposto questa trappola. Tutta la storia del ritorno della Veltro. Nascondigli in montagna. Movimenti coordinati delle navi. Tutto per pressare Morgan. Ma non mi sono ancora arreso. Ci hanno lasciato con un asso nella manica. L'ultima regina. Sì, la Quindido. Giace sul fondo dell'oceano sin da quel giorno. Il che vuol dire che la troveremo? A terra grigia. Esattamente. Abbiamo l'obbligo di portare a termine questa missione. Passo e chiudo. FBC. Nessuno si muova. Forza. Mettete le mani in alto. L'estami. Morgan Lesdale. Subentriamo il comando. La PSAA da questo momento risponde solamente alla FBC. Clive R. O'Brien. È in arresto per aver collaborato con l'organizzazione terroristica Veltro. Chris. Jill. Siete l'unica speranza. Eccola là. I resti di terra grigia. E la Quindido. Ci avviciniamo al punto di lancio. Eccola qui, Ndaido. La terza regina. La terza regina. Eccola qui, Ndaido. La terza regina. Eccola. Eccola. Sì, sì, sì. 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 Forse quei cadaveri sulla spiaggia erano della Veltro. Qualcosa è ancora vivo. Sta' attenta, sott'acqua non riusciresti a difenderti. Sì, 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 sì. È una serratura elettrica. Sì, spero che l'alimentazione di emergenza funzioni ancora. I fili sono stroppati, li sistemo. Ok, io cerco di riattaccare la corrente. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Jill, la porta è aperta. Ok, sto tornando. Sì, sì, sì. Per un pelo. Per un pelo. Ok, muoviamoci. Ok, muoviamoci. Ok, muoviamoci. Ok, muoviamoci. C'è ancora aria. chi è? È morto da poco tempo. la FBC. Cos'ho lì? Sono l'agente Dario Barioni delle Forze Armate dell'FBC. sono le 19. Sono le 19.48. sono le 19.48. È stato il desiderio di vendetta a mantenere l'invi... non è stato il desiderio di vendetta. Non è stato il desiderio di vendetta. Oh mio Dio Oh mio Dio La Quindaido si trova già sul fondo del mare Non c'è via d'uscita Nessuna possibilità di sopravvivere A meno che... Valtro, in tuo onore riconosciamo tutti i nostri errori E convertiamo la nostra carne in ricordo dei nostri peccati Ma perché, Morgan? Non ci sarà mai Re qui Noi ci leviamo dai morti E il nostro spirito è una forza cieca e immutabile Tutti i nostri scambi sono qui dentro Noi diventeremo i guardiani della verità Per tutto il tempo Che sarà necessario Jack Norman era il capo della Veltro E hai il video che ci fa inchiodare Lansdale Grazie a tutti 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 Come osate ostacolare la Veltra? Grazie a tutti Morgan, cercavi questo, vero? Proprio così Questo piccolo apparecchio contiene la verità Tutta la verità che servirà a smascherare la vostra forza Ci siamo, abbiamo le prove Andiamocene, prima che si trasformi Fermi! Morgan, guardati dal terrore che hai scatenato Mi ha scatenato! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti